Il 26 maggio 2013 il clima non sembra proprio quello primaverile ma il popolo della Quintana è sempre pronto e parte anche questa sera per dare il via alle danze della giostra di giugno 2013. Tutti i quintanani si ritrovano intorno ad una tavola per passare insieme questa cena grande. La Quintana è donna, la Quintana è femmina, l'abbiamo visto anche dal palio e chiaramente la bellezza non poteva mancare neanche a questa cena. Come sta andando questa cena grande? Questa cena grande è innanzitutto un'occasione meravigliosa per ritrovarsi tutti insieme e sancire l'inizio dei giorni quintanari. Il tutto addolcito ancora di più, se così si può dire, da un cibo meraviglioso. Stasera era una serata fredda però ci siamo coperti, la gioia di stare insieme, le emozioni, di vedere dei bellissimi filmati ci hanno fatto dimenticare. Il freddo è, anzi direi che c'è molto calore.